E' tornato dopo due anni il rito dei serpari di Cocullo, il tradizionale e suggestivo appuntamento previsto in occasione della festa di San Domenico. Circa 10.000 persone hanno riempito le strade e le piazze di Cocullo, il piccolo paese della Valle del Sagittario, per assistere al secolare rito dei serpari, atteso dopo lo stop per la pandemia. Beh, io diciamo sono di Cocullo per adozione. Quello che posso dire è che è una manifestazione molto importante e che va assolutamente valorizzata perché è una manifestazione molto antica ed ha una rappresentazione del sincratico che è tutta di questa zona abruzzese, tra quelli che erano culti pagani e quelli che poi sono diventati, sono attecchiti come culti cristiani. Che sensazione si prova? Eh, un po' non lo so, un po' da brividi, però non fanno niente, è una bella sensazione, guarda, sono animali innocui. Lei da dove viene? Noi veniamo dal Gargano, Vigo dal Gargano, Puglia. È la prima volta? Sì, sì, è la prima volta. Da dove viene lei? Io da Teramo, per me è la prima volta. Una grande emozione? Sì, è emozionante e soprattutto dà una certa sensazione di estasi, è proprio meraviglioso. È un'emozione mai provata. Poi pare che sia, che stia, che si trovi bene con me. Cosa significa essere Serpara oggi? Beh, sicuramente è il mandare avanti di una tradizione che ci è stata mandata dai nostri nonni e dai nostri genitori. È il continuo di una tradizione. Diciamo che per i prossimi anni, anni futuri, saremo noi, diciamo, a prendere, tra virgolette, il comando di questa festa e speriamo di farlo nel miglior modo possibile. La festa che è tornata dopo due anni? È stata sicuramente un'emozione oggi ritrovarci di nuovo qui. Speriamo che si torni al più presto alla normalità per continuare questo rito. Una grossa partecipazione di pubblico giunto da tutta Italia, tantissime auto e otto i treni straordinari organizzati per l'evento. Mi sento anche un po' parte di questa comunità perché mio marito è originario di Cocullo quindi noi siamo sempre presenti. Quest'anno lo siamo ancora più contenti perché abbiamo visto una grande partecipazione dopo questi due anni, non era scontata. Quindi siamo felicissimi di questo. È sicuramente una festa da rispettare, da continuare e da continuare a valorizzare. Il significato che noi diamo a questa giornata è il voler vivere questa ripartenza tutti insieme in un momento di forte comunità spirituale. Quindi a noi piace pensare che possa essere un nuovo inizio per tutti.